La pizzeria degli orrori, così l'hanno chiamata gli inquirenti. La scoperta di una pizzeria dove i condimenti erano niente di meno che gli stessi clienti è avvenuta la scorsa notte nella periferia della città. Le indagini della polizia hanno portato ad identificare i responsabili nei due vasi da Villa Sinister, il recente caso di cronaca di una clinica, teatro di atroci delitti e distrutta da un incendio. I due maniaci sono stati identificati dalla stessa persona che ha dato l'allarme, il giovane giornalista Luigi Ramani, che da tempo collaborava attivamente con la polizia al caso. Resta il mistero della sparizione dei due criminali, le cui ricerche sono tuttora in corso. Tutto il resoconto nel servizio del nostro inviato. Grazie. Grazie.